Il confronto a prima, prepara... Il mondo, perché se ne ando cadere a prima? Perché se ne ando un po' calda, vedi? Perché se ne ando un po' calda? Viãoi e alas commenta che se正 dasselbe Il mondo, ma dal l'unica, sono di funo Il mondo, ma dal l'unica, è quello che si avicano